La CISL ha deciso di promuovere una raccolta firme per un'iniziativa di legge popolare per modificare il sistema fiscale italiano. Si possono così enunciare i punti salienti? I punti salienti sono questi. Il primo, noi riteniamo che sia opportuno, anche per far ripartire la domanda interna, erogare un bonus non solo ai lavoratori dipendenti, i famosi 80 euro, ma noi proponiamo 1000 euro per i lavoratori dipendenti, pensionati e anche per i lavoratori autonomi. In secondo luogo proponiamo un ridisegno dell'assegno familiare, mettendo insieme gli assegni familiari e le detrazioni per sostenere soprattutto le famiglie con più carichi lavorativi. La nostra proposta però indica anche dove reperire le risorse per alleggerire il carico fiscale. Noi individuiamo due canali. Il primo è l'introduzione nelle dichiarazioni dei redditi, la possibilità di detrarre una grande tipologia di spese, perché questo costringe chi eroga i servizi a emettere la fattura e quindi a far emergere dal nero un pezzo dell'economia. La seconda strada che noi indichiamo è quella di una tassazione sulle rendite patrimoniali e finanziarie per chi ha un patrimonio superiore ai 500 mila euro. Dove e da quando si può firmare? Si può firmare presso tutti i comuni del Vicentino, dove sono depositati i moduli per la raccolta delle firme e si potrà firmare negli eventi, nei banchetti che verranno organizzati dalla CIS nei prossimi due mesi.